50 nuovi vigili in arrivo dopo i 70 assunti dal Comune di Venezia durante l'estate. Il nuovo bando in via di definizione porterebbe a 120 il totale dei rinforzi da dedicare al contrasto al degrado del centro storico e alla lotta alla microcriminalità nei quartieri più degradati della terraferma. Saranno impiegati in coordinamento con gli agenti della Questura in interventi mirati, sfruttando l'orario notturno anche per agire in terraferma contro chi durante il giorno crea problemi nella città storica, ma è difficile da bloccare in mezzo alla folla senza far nascere un parapiglia. L'obiettivo, ha spiegato il sindaco Luigi Brugnaro, è invertire la tendenza anche in termini di fama della città che negli scorsi anni è diventata meta prediletta di delinquenti che la consideravano particolarmente aperta e tollerante all'illegalità. Se invece passa un messaggio di tolleranza zero, sostiene il primo cittadino, i criminali tenderanno a preferire luoghi meno ostili per le loro attività.